una placida ma ostinata tartaruga viene a sapere che il leone re degli animali si sposa e si mette in cammino per partecipare alla festa con questa c'è chi la prende in giro e chiede sconsiglia di continuare un viaggio simile non è roba da tartarughe ma la brava tranquilla ce la farà dimostrando per l'ennesima volta come in ogni favola che si rispetti che chi va piano fa sano